Benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani domenica 15 luglio un'altra giornata all'insegna del bel tempo e del caldo sulle regioni centro-meridionali. E' in particolare caldo molto intenso sulla Puglia e sulla Sicilia dove il termometro potrà spingersi fino a 38-40 gradi. Il nord invece sarà lambito da una nuova perturbazione atlantica che porterà temporali sulle Alpi e poi sulla Valpadana centro-orientale. Andiamo a vedere l'immagine dei satelliti virtuali. Vedete ancora il centro-sud alle prese con l'aria di alta pressione mentre il nord viene interessato da questa perturbazione che balicherà le Alpi nel corso della giornata. E infatti vediamo il tempo per la giornata di domenica. Abbiamo sintetizzato un po' con una cartina sola. Vedete il bel tempo sulle regioni centro-meridionali, un po' di nuvole sulle regioni di nord-ovest con tendenza però a miglioramento nel corso della giornata. Nubi rovesce temporali invece sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino settentronale, sul settore centro-orientale della Valpadana, temporali che poi nel corso della serata si estenderanno anche all'Emilia-Romagna. Vediamo adesso le temperature. Queste saranno un sensibile calo sull'Emilia-Romagna anche di 5-6 gradi. Al nord i valori saranno per lo più compresi tra 29 e 31 gradi, tra 32 e 34 gradi sul resto dell'Italia. Vedete ancora qualche punta di 37 e 38 gradi sulla Puglia e addirittura di 39 e 40 gradi sulla Sicilia orientale. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.